John Ward Edmonds che si trattasse di frodi e che fosse giunto il momento di smascherare il fenomeno che cominciava a suscitare interesse e discussioni nella società americana. Lo studio diretto dei fenomeni condusse il giudice Edmonds a conclusioni diametralmente opposte rispetto alle sue intenzioni d'inizio. Il primo agosto 1853, in un articolo dal titolo Al Pubblico che apparve nel New York Carrier, l'Edmonds prese posizione a favore della medianità, dichiarandosene un convinto assertore. Ineluttabilmente si scontrò con la media evoluzione della società americana dell'epoca e fu costretto a dimettersi da tutte le sue cariche. Grazie Grazie Grazie